Davanti alla scuola, tanta gente. È una delle esperienze più importanti della mia vita. Il fatto di essere cresciuto all'interno di questa casa, il sistema di relazioni, il tipo di educazione che ho ricevuto all'interno della casa, credo sia stata un'occasione assolutamente unica, accoppiata alla formazione universitaria e a realizzarsi di amicizie e rapporti. È stata di gran lunga l'esperienza più importante. Un'esperienza che poi mi ha portato a far sì di avere un ruolo attivo anche all'interno della città di Venezia, decidere di rimanere a Venezia con la mia famiglia e avere la fortuna e l'occasione così di tornare adesso all'interno della casa per restituire in qualche modo questa grande possibilità che ho avuto e restituire un po' dei benefici che la casa mi ha dato. Dal 1982 quanto è cambiata Santa Fosca? Io sono arrivato qualche anno dopo la fondazione della casa. Sono nella casa dal 1986 ma devo dire che esiste questa radice che la attraversa e che rimane sempre uguale. È una radice forte che ha permesso alla casa di affrontare tutti i cambiamenti che ci sono stati attraverso le persone che sono passati ma anche attraverso un panorama universitario che è profondamente mutato con corsi di studi che sono passati da 5 anni a 3 più 2 all'apertura internazionale con progetti Erasmus piuttosto che studenti stranieri che arrivano molto più di frequente nelle università veneziane ma con una realtà che ha saputo essere flessibile così come un giunco e quindi a sapersi adattare pur mantenendo intatta quello che era il messaggio e la proposta delle origini. Gli universari servono per fare un bilancio del passato ma anche per guardare al futuro. Allora che cosa si augura per il futuro di Santa Fosca? Io mi auguro profondamente che Santa Fosca sia sempre di più una realtà presente nella città di Venezia che abbia sempre di più in questo momento anche di crisi profonda delle istituzioni, dell'economia la capacità di realizzare un'assunzione di responsabilità negli studenti di dare una formazione, di essere una vera e propria piattaforma per provare la vita in comune e impostare progetti che poi sono destinati a realizzarsi nei prossimi anni, negli anni che verranno ma che sia veramente una struttura, una radice forte su cui si possa costruire. Innanzitutto la Chiesa di Venezia ha voluto proporre agli studenti una scommessa quella che essere cristiani non vuol dire soltanto avere delle idee o avere una formazione cristiana ma vuol dire vivere in un certo modo e quindi la scommessa è cercare di vivere da cristiani come studenti universitari che non vuol dire fare una vita noiosa, pesante e triste ma invece fare una vita bella, più bella, la scommessa è più bella perché sei cristiano e quindi la scommessa qui in questa casa è quella di prendersi in mano la vita e giocarsela secondo il progetto del Signore nella concretezza di tutti i giorni e la concretezza di tutti i giorni è fatta di che cosa appunto? È fatta di un appuntamento comunitario settimanale il martedì sera in cui la comunità si riunisce ed è importante perché non siamo tanti singoli in cui ognuno fa i propri interessi a discapito degli altri ma siamo una comunità che sceglie di vivere insieme, che sceglie di vivere le dimensioni comunitarie e ha bisogno di un momento di incontro che è fondato sulla preghiera, spesso l'Eucarestia, la Messa ma anche sul confronto e sulla discussione comune dei problemi e anche delle cose concrete da decidere e poi le altre modalità concrete di vivere sono quelle di vivere appunto con gli altri facendosi carico dell'altro, non nell'indifferenza ma appunto facendosi carico dell'altro sia mettendo tempo e impegno a disposizione per la comunità perciò ciascuno ha un servizio da compiere nella comunità non solo come un contributo, come dire, perché così non dobbiamo pagare chi fa queste cose ma anche come un farsi carico del fratello per cui se io pulisco le sale comuni evidentemente lo faccio anche per gli altri è un farsi carico comune, comunitario e poi certo anche il farsi carico dell'altro vuol dire per esempio imparare a correggersi gli uni gli altri la correzione fraterna è uno degli elementi più difficili ma anche più importanti nella vita comunitaria di Santa Fosca C'è anche uno spazio riservato alla preghiera? La casa ha un cuore che è Emmaus dove c'è conservata la presenza del Signore nell'Eucarestia e la parola di Dio, uno spazio di silenzio, uno spazio anche bello, curato proprio perché uno possa avere anche un momento personale di ascolto, di silenzio, di raccoglimento In questa cucina ad esempio come tutte le altre abbiamo il nostro posto nel frigo abbiamo la nostra scatola dove inseriamo tutte le cose abbiamo il nostro posto nell'armadietto ognuno è tutto aperto, si basa tutto sulla fiducia ognuno ha le proprie cose, si fa la spesa, si fa da mangiare abbiamo i turni per le pulizie Quanti siete studenti? In casa 107, in una cucina mediamente 25-28 dipende dalla grandezza della cucina perché c'è una un po' più piccolina e le altre sono un po' più grandine Quindi sono quattro cucine? Sono quattro, divise per colore, poi fazione perché nascono tutte le cose Tu di che cucina sei? Sono della rossa, sempre stata veterana e le pulizie è un'altra cosa che funziona per turni che funziona per turni e ogni giorno ci sono un tot di persone, in media 5 che sono adibite alla pulizia, così a giornaliera e tutto viene fatto sempre Quindi uno studente per quella giornata non studia, non si dedica ai compiti? No, 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 alla sera di solito si fanno di solito verso le 10 e mezza, così siamo sicuri che non si dà fastidio a nessuno si arriva, si vede, abbiamo i punti, io sono arrivo per primo mi tocca, devo fare la scopa e via, fai la scopa metti a posto le sedi, pulisci i tavoli, fai i forni, i mozzi tutto quello che c'è da fare, il lavabo si puliscono un po' di superfici e questo è un esempio della vita di comunità Ma tu hai imparato qui a cucinare? Beh, la maggior parte delle cose sì, sì, sì poi dai vecchi ti danno i consigli fai questo, fai l'altro, non è meglio fai, come con tutte le cose, specialmente magari anche nel comportamento, anche questo, la correzione fraterna ci si aiuta, ci si stimola nello studio A te l'hanno mai fatta qualche correzione? No! Quindi la cosa più importante, Claudio, ti faccio questa domanda che hai imparato qui, secondo te, qual è? La cosa più importante, beh, ad essere se stessi e nel rispetto degli altri perché, sì, tu puoi fare quello che vuoi però senza, rispettando la libertà altrui e questa cosa è la base per vivere qui e penso anche, c'è, dappertutto Siccome all'interno di Santa Fosca ci sono studenti di vario tipo come me, da lettere ad architetti semplicemente ci differenziamo, ci separiamo secondo le sale studio per architetti o studenti dell'accademia quindi che hanno bisogno di spazi più ampi per poter distruggersi o se no altri spazi dediti unicamente per noi di lettere che sono altre se le studio più in là e che sono più seriose più come una biblioteca Silenziose, quante sono le ole studio? In questo momento sono quattro più una biblioteca sì, non di più È difficile studiare tutti insieme o no? Dipende dalle persone Ci sono persone che, come me, che hanno bisogno del casino, del rumore e per quello vengono nelle sale degli architetti altri che hanno bisogno di totale silenzio e che quindi per loro è faticoso, sì ma molti studiano anche in camera quindi tanti problemi alla fine non ci sono Senti, a proposito di darsi una mano anche in questo voi vi aiutate a vicenda con lo studio? Sì, è più difficile Sicuramente per noi di lettere o materie umanistiche perché più che spiegare qualche argomento o prestare qualche libro è la cosa un po' complicata è più facile per architetti perché possono proprio insegnare alle matricole come si usa meglio il computer determinati programmi a AutoCAD si aiutano a fare plastici anche se in quello aiutiamo anche noi di lettere tante volte Sono due versanti su cui si gioca la spiritualità nella casa uno è dal punto di vista individuale ovvero il percorso che ognuno di noi già ha iniziato fuori ma che continua qui e che si arricchisce di esperienze e di idee che vengono dal confronto con gli altri studenti che vivono qui sull'altro versante invece c'è un'esperienza comunitaria e quindi un percorso che la comunità stessa come organismo fa dal punto di vista spirituale qui ci troviamo in Emmaus che è proprio il centro il cuore della casa dove c'è sempre il Santissimo dove possiamo venire per riflettere per pregare e lasciamo delle testimonianze anche su un quaderno che è il quaderno di Emmaus che ognuno poi può leggere e quindi diciamo c'è questo senso di continuità anche rispetto agli altri studenti che sono passati prima di noi e leggendo proprio le testimonianze degli stessi studenti ci accorgiamo che non siamo soli a provare certe cose ad avere dubbi a interrogarci su questioni di fede ma anche di vita poi per quanto riguarda invece il percorso comunitario ogni anno il gruppo spiritualità che è uno dei tre gruppi di animazione della casa propone un percorso soprattutto nei periodi forti dell'anno che sono l'avvento e la quaresima per appunto animare e suscitare diciamo anche dell'interesse nei Santa Foschini insomma quindi quest'anno ad esempio per la quaresima sono stati proposti un ritiro spirituale una via crucis degli incontri il martedì che è il nostro giorno in cui ci incontriamo come comunità e invece a livello proprio più generale dell'anno stiamo facendo un percorso sul Vangelo di San Marco dividendolo in tappe successive e attraverso diverse letture e interpretazioni che vanno da quella artistica a quella critica a quella esegetica e anche alla preghiera stessa del testo del Vangelo lo cerchiamo di rapportare la nostra esperienza personale e la nostra vita nella casa Voi qui state conducendo una vita un po' particolare perché siete lontani dalle vostre case dalle vostre famiglie molti arrivano anche da lontano quanto è importante questo momento questo spazio proprio in cui cercare se stessi cercare Dio Sì sicuramente è un momento importante anche perché si raccolgono sì tutte le esperienze fatte fuori prima del nostro arrivo che è Santa Fosca ma poi la cosa più importante credo sia la possibilità di confronto con gli altri qui e quindi poter vedere anche da diversi punti di vista la nostra fede e il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire 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 l'imbrunire